È stata una battaglia, devo dire la verità, di tutto il gruppo del PD e anche delle altre opposizioni. L'impostazione con la quale le norme erano venute in aula a seguito della presentazione della legge di stabilità da parte del governo erano quelle che bisognava fare pesare sui comuni delle incommense che questi non potevano in alcun modo soddisfare. E questo al fine di scaricare sugli enti locali la responsabilità degli eventuali incendi, che come sappiamo nel corso soprattutto dell'ultimo anno hanno colpito duramente le nostre comunità facendo perdere a molti la prima casa, macchine, beni importanti nella vita di ciascuno di noi oltre ad avere devoperato ulteriormente il patrimonio boschivo. Noi abbiamo in primo luogo contrastato questa impostazione dicendo che il compito di mettere in campo l'iniziativa antincendi è della regione e del corpo forestale. E questa impostazione già in commissione bilancio su impulso mio e di tanti altri colleghi di tutti i gruppi parlamentari attraverso diversi emendamenti è stata alla fine accolta dal governo e dunque si era già spostata l'attenzione nuovamente sull'impegno del governo regionale e quindi delle amministrazioni regionali, azienda foreste, corpo regionale forestale al fine di delegare loro questa compagna di prevenzione. e quindi avevamo fatto saltare la riserva del 3% a carico dei comuni che era ben poca cosa per poter consentire ai comuni di fare la campagna antincendi. Adesso abbiamo ottenuto qualcosa di in più perché da prima su intuizione dell'onorevole Cracolici si è immaginato di aumentare le giornate di lavoro dei forestali addetti all'antincendio e non solo per arrivare in maniera più adeguata e più repentina alla pulizia dei terreni tanto demaniali, tanto privati che non vengono puliti perché molto spesso abbandonati molto spesso con tantissimi proprietari e quindi si aumenteranno le giornate di questi lavoratori da 78 a 101 per far sì con uno stanziamento adeguato di 6 milioni di euro per far sì che questa campagna di prevenzione possa partire già nel mese di marzo e possa vedere la costante pulizia di questi terreni. Questo consentirà attraverso una sinergia tra comuni, in questo caso nei limiti però delle competenze che già hanno e del corpo forestale, di mettere in campo un'iniziativa di prevenzione più efficace rispetto a quella che abbiamo messo in campo negli anni precedenti.